affronteremo il cuore del nostro tema, e cioè quale incontro possibile con questo padre. Ed ecco quindi la prima domanda. La prima suggestione è quella relativa alla crisi psico-socio-culturale del padre. Trent'anni fa, protagonista fu la nostra generazione, si teorizzò, come è stato detto qui, la morte o addirittura l'uccisione del padre, come reazione al paternalismo religioso, politico e sociale, e alla figura del padre padrone. Poi è venuta la società policentrica, la crisi generalizzata della famiglia, e si è passati, come diceva il giurista Marco Ventura, dal padre legislatore, ordinatore, detentore della patria potestas, alla figura, peraltro flebile, poco abbozzata, della paternità affettiva. Si tratta allora, professor Cacciari, di un'emancipazione del ruolo di padre, del padre, o di un impoverimento, di una perdita che genera nostalgia? Credo che le domande siano parecchie, quindi scuserete la telegraficità. Anzitutto io penso che ciò che caratterizza tutta la nostra età, e in particolare l'età moderna, sia non tanto la figura, la predominanza della figura di un padre, ordinatore, legislatore, ma tutta l'epoca moderna e forse tutta la nostra età è caratterizzata invece, o può essere definita invece, come età del figlio. Tutta la nostra epoca è caratterizzata, l'epoca moderna in particolare, come una, potrebbe essere caratterizzata come una rivoluzione permanente nei confronti di tutte le figure paterne, se queste figure vengono intese nel senso appunto che prima si diceva, cioè come figure che ordinano, che legiferano in modo forte. Tutta la nostra età è una rivolta contro queste figure, quindi io non vedrei in alcun modo come caratteristico del 68, come caratteristico di un momento particolare della storia contemporanea, la rivolta contro la figura del padre, ordinatore, legislatore. È una caratteristica di tutta l'età del figlio. Anzi, si potrebbe addirittura dire che proprio la nostra età è caratterizzata proprio dall'essere parricida da questo punto di vista, e dal tentativo di dimenticare, di nascondere o di cancellare la figura paterna come una figura che ordina e legifera. A questo punto si apre appunto il problema di una... cioè la questione, e cioè la nostra età è quella di una autarchia del figlio, del soggetto. La nostra età è caratterizzata dal... e io penso di sì, dall'ego sum, cioè addirittura da una sorta di deduzione dell'essere dall'ego, e dall'ego solo, che crea se stesso in qualche modo, no? Cioè la prima parola della filosofia moderna contemporanea, ma della scienza moderna contemporanea è questa. È una forma... è quasi una forma di autogenerazione dell'io. Se voi aprite appunto il discorso sul metodo, è uno che non ha... ha un ego che non ha presupposto, che non è generato da nulla, che deduce da sé l'essere. Questo è l'attratto caratteristico dell'età moderna. Questo ego sum solo, da cui deriva tutto il resto, ma che nulla presuppone, a che cosa conduce? A quale incapacità di relazione conduce? Cioè un ego che non presuppone la figura della relazione, potrà poi produrre relazione? Questo è il vero problema, e se volete il vero dramma del moderno contemporaneo. Quindi non stiamo a vedere queste cose in termini cronachistici, come fosse una questione del 68 o di altro. Il problema è questo. Cioè la cultura, la filosofia, la scienza moderna e contemporanea nasce liberandosi da ogni presupposto, e il presupposto per eccellenza è quello del padre. Cioè il suo atto di nascita è parricida. Su questo non c'è alcun dubbio. in Cartesio, ma in modo ancora più drammatico, violento ed eroico in Spinoza. La rottura proprio addirittura con la sua razza, con la sua gente. La filosofia, la grande filosofia moderna, nasce da un atto parricido. Il problema, che sia Cartesio, sia Spinoza, pensavano qual era? Che l'essere, dedotto dall'ego, ego sum, dedotto dalla capacità di pensiero, potesse produrre liberamente, senza alcun presupposto, relazione, società, comunità. È avvenuto così? No, non è avvenuto così. Non è avvenuto così. Questo è il problema. Cioè il nulla presupporre, il non presupporre relazione, parlando un po' metaforicamente appunto, il non presupporre padre, il non porsi come presupposto il problema del padre, non ha permesso all'ego, virgolette, liberato, di produrre autentiche comunità. Le nostre non sono comunità. In nessun genere sono definibili così. Ma proprio non sono definibili così perché non presuppongono alcuna relazione. pensano che la relazione possa essere soltanto un loro prodotto, un prodotto della loro tecnica, politica, amministrativa, economica. E questa è la questione. Questa è la questione. è la questione. Questa è la questione ho